Musica Il prosciutto nella maglia di campione regionale dal vicepresidente regionale Andrea Di Fiori, Antonio il prosciutto invitato per stessi San Giro e la tazza al campione regionale. Applausi Anche per Zandri la tazza di marina. Applausi Ci vogliamo avvicinare a questo bel successo. Zandri è l'arma di Juventus Fano, già protagonista anche questa mattina nella gara degli sordenti del secondo anno. Applausi Bene, adesso un piccolo riconosce prima di premiare. Applausi Grazie Grazie